Una mattinata all'insegna del ritorno dell'arte nella vita di tutti i giorni. Per la riapertura delle gallerie d'Italia di Piazza Scala a Milano si sono viste persone in coda, in attesa di poter entrare e riscoprire la mostra dedicata al tiepolo tra Milano, Venezia e l'Europa. E con Giovanni Morale, vice direttore del Museo d'Intesa San Paolo, abbiamo commentato le prime ore di apertura. È una grande gioia, abbiamo praticamente tutto esaurito secondo le norme Covid, nel 145 persone all'ora, in questo momento c'è gente che sta facendo diligentemente la coda distanziata e abbiamo superato le 200 presenze qui alla mostra di Tiepolo. Nelle grandi sale del palazzo si percepiva un senso di emozione tra il pubblico e tra gli operatori. Tutte le procedure di accesso, biglietterie e fruizione sono state adeguate alle norme di sicurezza sanitaria, ma queste non hanno impedito ai grandi dipinti di tornare a splendere negli occhi dei visitatori. È un'occasione non solo per ammirare la grande pittura veneziana del Settecento, ma anche di appropriarsi di tempi, modalità e grandi committenzi della nostra grande città. Il 4 febbraio è stato anche il giorno della riapertura di tutte le gallerie d'Italia, non solo a Milano. È significativo che le tre gallerie d'Italia, Napoli, Vicenza e Milano, aprono lo stesso giorno. È un segnale per il paese di speranza verso qualcosa che abbiamo un po' dimenticato, cioè riappropriarci della bellezza e di andare veramente gioiosi davanti alle grandi opere e rimanere estasiati dalla loro bellezza e dal loro fascino. Anche questi sono aspetti ed emozioni che raccontano la nostra vita al tempo della pandemia.